Rossella, una bellissima partita, forse è un modo giusto per chiudere il giorno andata, peccato perché c'è stata anche l'occasione per ottenere un punto in più. Sì, sicuramente, è stata una partita combattuta, quello che non si era visto nelle ultime. C'è un po' di rammarico per com'è finita, potevamo portare a casa almeno un punticino in più, però sono contenta perché rispetto alle ultime partite si è vista una bella squadra, una bella pallavolo e soprattutto una squadra che non si è resa sui palloni, questo è importante. Sì, è stata una settimana corta, molto particolare, sono uscite voci, si è parlato tanto tra di noi, c'erano tante cose e abbiamo fatto ormai quattro mesi, quanti sono, lavorando veramente ogni giorno in palestre. Ci siamo dette questa è l'occasione, forse, di far vedere che abbiamo lavorato, che effettivamente del lavoro dietro c'era. Penso si sia vista finalmente una squadra un po' più ordinata, con ancora i nostri momenti di down, che sono quelli che alla fine ci hanno portato a perdere i set, però penso finalmente che abbiamo offerto una bella partita. Si riparte da un punto, in vista di un giorno di ritorno, che deve essere diverso? Sì, vedendo quello che abbiamo fatto, questo punto vale tantissimo. Poteva essere tanto di più, vero, ma oggi, come ogni partita d'ora in avanti, ci portiamo a casa anche quest'unico punto. Era comunque contro una Pinerolo in grande forma, che veniva da un punto conegliano. Quindi ora c'è un'altra partita da tutto e niente, nel senso che è conegliano, e sappiamo benissimo che non occorrono presentazioni, però voglio vedere in campo di nuovo dalla mia squadra questo spirito e so che ci sarà.